Abbiamo cominciato la costruzione del secondo dispensario in Burundi, in località Buganda. Sono previsti 12 posti letto, una piccola infermeria, una piccola chirurgia, bagni, approvvigionamento idrico e elettrico per i pannelli sottotitoli. Tutto ancora, o meglio è cominciata la struttura e è a buon punto. Ma contiamo entro la fine del 2018 dell'operativa e credo che i primi mesi del 2019 vedranno già degli ospiti in questo dispensario. Questa è una zona molto depressa, molto lontana dalle vie di comunicazione, quasi dimenticata. veramente una zona, così come lo è stato per l'altra zona di Muguga, veramente molto molto penalizzata, penalizzata e marginata, lontana da ogni cosa.